Doveroso ricordare i sindacalisti che pagarono un tributo pesante nella lotta delle Camere del Lavoro contro la mafia, così oggi Susanna Camusso, segretario generale della CGL, a Sciacca nel settantesimo anniversario dell'omicidio Miraglia. A margine delle commemorazioni per Miraglia, Susanna Camusso ha anche incontrato i lavoratori della Calce Struzzi Belice, assurdo per la leader nazionale della CGL che l'Agenzia dei Beni Confiscati abbia deciso di chiudere l'azienda. Il territorio di Sciacca e quello del Belice sono più legati al versante mafioso trapanese che a quello della restante parte della provincia di Agrigento, così il magistrato Salvatore Vella in una intervista rilasciata al giornale di Sicilia. Il Movimento 5 Stelle è disponibile ad accogliere i giovani di Mizzica, lo dichiara oggi Matteo Mangiacavallo, capogruppo all'Arse, che a sorpresa apre all'arruppamento che ieri ha annunciato il proprio impegno alle prossime amministrative. Si rischia un pasticcio con le prossime elezioni dei liberi consorsi, elezioni di secondo grado programmate a febbraio ma a maggio si voterà per le amministrative e c'è il rischio che i sindaci eletti restino in carico appena per tre mesi. Solidarietà torna domani sera alle 20.30 all'Hotel Iperi di Sciacca Mare, la tombola di beneficenza organizzata dall'Associazione Crescere Insieme per raccogliere fondi a sostegno delle tante attività messe in campo dall'Associazione. Anche oggi ben trovati al nostro telegiornale Sotto i riflettori, la visita di oggi a Sciacca di Susanna Camusso. La leader della CGL ha presenziato alle commemorazioni in onore di Accurso Miraglia il sindacalista Saccenze, ucciso dalla mafia dei agrari il 4 gennaio di 70 anni fa, il primo dei nostri servizi. Di quanti grandi sindacalisti, come la figura di grande Accurso Miraglia, ha bisogno questo paese in questo momento? Intanto ha bisogno di ricordarseli, di ricordare la nostra storia, di ricordare il prezzo e il tributo che le Camere del Lavoro siciliane non solo hanno pagato alla stagione del tentativo di riformare l'agricoltura, di chiudere i lati fondi e di avere una prospettiva di sviluppo. E ricordarseli significa esattamente ragionare sulla funzione che ha il lavoro per lo sviluppo, che è il grande dimenticato di questa stagione. Così dunque Susanna Camusso stamattina ha ricordato Accurso Miraglia il segretario della Camera del Lavoro di Sciacca, ucciso dalla mafia degli agrari il 4 gennaio di 70 anni fa. Una presenza quella della segretaria generale della CGL, che ha esaltato ancora una volta la memoria storica nei confronti di un grande combattente per i diritti. Cosa significa per la famiglia Miraglia la presenza del segretario generale della CGL? Che tutto quello che è stato fatto in 70 anni da tutti i sindacalisti che hanno iniziato la battaglia per i lavoratori, come vedi i lavoratori sono qua, è stato tutto fatto bene. Tutto ha avuto un senso perché se dopo 70 anni la segretaria nazionale della CGL viene a ricordare un sindacalista, qualunque sia il suo nome, vuol dire che il sindacato funziona, vuol dire che i lavoratori sono sempre tutti uniti, come lì creò uniti Accurso Miraglia e Giuseppe Di Vittorio. Ancora oggi la CGL fa la sua battaglia, la battaglia per il lavoro. Sono ancora tutte tematiche che sono ancora vive, è cambiato lo scenario, ovviamente non siamo a 70 anni fa, ma quelle questioni restano vive. E quindi noi oggi intendiamo con questa nostra iniziativa, come ogni anno, ribadire il nostro grazie a Miraglia, agli uomini come Miraglia che hanno fatto quella storia lì e a, come dire, inverare questi valori e renderli permanenti nella nostra società. Sì, è vero, è trascorso il tempo, dal 4 gennaio 1947, ma sono convinto che tutto quello che è accaduto in questi anni e ciò che si farà anche prossimamente, renderanno sempre più la nostra città orgogliosa di aver avuto un figlio, così di altissimo livello sotto il profilo sociale, culturale, dell'impegno politico e soprattutto dell'impegno a difesa dei più deboli. Dopo la commemorazione della figura di Accurso Miraglia al cimitero, davanti alla sua tomba, c'è stato il momento del raccoglimento in piazza Lazzarini, alla villa che custodisce il busto del sindacalista Saccenzi, realizzato dal compianto scultore Filippo Prestia. E fin qui dunque le celebrazioni per commemorare Accurso Miraglia, ma Susanna Camusso ha anche avuto modo di parlare con i lavoratori della Calcestruzzi Belice di Montevago, la società confiscata alla mafia dichiarata fallita dal Tribunale di Sciacca per un debito di appena 30 mila euro. La sindacalista si è impegnata a chiedere chiarimenti all'Agenzia Nazionale che amministra i beni sequestrati alla criminalità organizzata. Vediamo quest'altro servizio. Nel mese di novembre la stessa agenzia, a lettera di Postiglione, nomina un legale per fare il ricorso contro la sentenza del Tribunale di Sciacca. A dicembre l'agenzia fa una lettera in cui diffida l'azienda a continuare l'attività, ma non scrivendo fino all'esito del ricorso. Diffida l'azienda a continuare l'attività, punto e basta. Il giorno 2 febbraio c'è la causa di appello, ma nel frattempo... Ha autorizzato la chiusura, cioè se si oppone formalmente ma nella sostanza chiude l'azienda, il tema è che ha chiuso l'azienda. A Susanna Camusso, all'importanza del suo ruolo di interlocutore del Governo nazionale, si sono rivolti oggi i dipendenti della Calcestruzzi Bellice SRL di Montevago, società confiscata alla mafia dichiarata fallita nei giorni scorsi dal Tribunale di Sciacca per un debito di 30.000 euro. Provvedimento che ha bloccato l'attività e causato il licenziamento dei lavoratori, decisione presa dall'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrate alla criminalità organizzata che amministra l'impresa. Io personalmente, assieme anche alla GGL di Agrigento, abbiamo fatto richiesta di incontro all'Agenzia chiedendo che fosse data questa azienda ai lavoratori che hanno costituito una cooperativa. Noi operai abbiamo fatto sacrifici economici incredibili, nel senso che, visto che l'azienda era in crisi, ci passavano uno stipendio di 250-300, massimo 400 euro al mese per aiutare l'azienda. Di fatto che gli operai vandiamo tutti un credito da 10.000, 15.000, 18.000. Ora che l'azienda si è risollevata i soldi non ce li hanno dati, ma l'hanno dichiarata. Non mi pare che cambi il destino dell'ENI per un credito di 30.000 euro con un'azienda produttrice. C'è un'irragionevolezza sia della causa di partenza sia delle scelte dell'Agenzia di non opporsi al fallimento, visto che è un bene confiscato e che quindi dovrebbe agire in tutt'altro regime. Questi lavoratori del Calcestruzzi Belice, oggi lei li ha incontrati, c'è questo cortocircuito tra strutture dello Stato, l'Agenzia per i beni confiscati sostanzialmente. Prima naturalmente confisca il bene, però poi adesso manda a casa i lavoratori. Cosa si può fare? Innanzitutto ci rivolgeremo al governo e all'Agenzia nazionale perché chiaramente non si sono rispettate quelle che sono le regole e le ragioni della stessa Agenzia nazionale e della possibilità di far produrre i beni confiscati. Poi mi viene in mente che non a caso noi presentiamo, insieme a tante associazioni, una proposta di legge e io riattivo il lavoro che la Commissione Antimafia sta discutendo perché è evidente che il messaggio rischia di diventare sempre quello che tu sequestri un bene per riportare alla legalità ma poi le licenzi le persone e gli togli la prospettiva. Quindi faremo tutto ciò che serva perché riparta questa attività produttiva. Il Jobs Act ha messo un tappo al sistema sociale, ecco perché vogliamo cancellarlo, ha poi detto la segretaria nazionale della CGL Susanna Camusso in piazza Lazzarini dove ha incontrato un gruppo di lavoratori stagionali che come si sa si sono costituiti in associazione nei mesi scorsi per protestare contro il dimezzamento dell'indenità di disoccupazione decisa dal ministro Poletti. E l'occasione della presenza sciacca di Susanna Camusso è servita anche a fare il punto sulla battaglia del sindacato contro il Jobs Act e i voucher. Al governo Gentiloni abbiamo chiesto discontinuità rispetto all'esecutivo Renzi, ha poi aggiunto Susanna Camusso. Vediamo cosa ha risposto alle domande dei giornalisti. Le sue ultime dichiarazioni, il Jobs Act addirittura paragonato ai pizzini che in Sicilia ha un significato particolare. Il significato elettorale è di un pezzo di carta che sostituisce il fatto che bisogna avere invece dei rapporti di lavoro e delle riconoscimenti regolari del lavoro che c'è. Quindi mi pare non la similitudine al tema mafioso ovviamente, ma la similitudine alla logica per cui si tratta al lavoro come se fosse un pezzo di carta qualunque. Credo che sia giusto continuare a dirlo, che c'è un abuso dei voucher, si sono allargati tutti i tetti e tutti i settori di attività. Invece di raccontare che è un fenomeno marginale, bisognerebbe ragionare sulla sua crescita esponenziale a sostituzione di quello che era lavoro stabile e strutturato. Questo governo avete dato un'apertura di credito oppure lo aspettate alla prova dei fatti? Come sempre il giudizio sui governi si dà sulle cose che fanno concretamente. Ciò che abbiamo detto a questo governo e continuiamo a dire che ci vuole discontinuità perché mi pare che sia evidente che o si affrontano concretamente i problemi del lavoro a partire da quelli del lavoro dei giovani oppure non si stanno dando le risposte che le persone vogliono, hanno chiesto e hanno chiesto anche con il referendum. A proposito della crisi del lavoro c'è un elemento in particolare che vuole sottolineare in Sicilia? C'è da suo parere anche una specificità che si può indicare in questo momento? Io credo che sia un noto tema a mezzogiorno che si chiama qualità dello sviluppo. Rimango sempre un po' inorridita quando invece di affrontare concretamente che tipo di sviluppo si vuole si torna a parlare di ponti piuttosto che di megaopereste straordinarie che non determinano neanche la conoscenza del territorio e delle soluzioni che si devono dare. E qui torniamo al tema. Invece di affrontare la crisi strutturale del mezzogiorno e domandarsi quale è la nuova industria, quale è il legame tra il territorio e le sue caratteristiche e l'industria, si è preferita un'operazione di spezzettamento dei fondi strutturali per il mezzogiorno, di patti con i singoli sindaci o con le singole regioni che di nuovo disperdono il flusso delle risorse senza avere un'idea di qual è lo sviluppo. Dopo l'ampia pagina dedicata alla visita di Susanna Camusso, torniamo in studio per parlare di un altro argomento. Il territorio di Sciacca e quello del Belice sono legati più al versante trapanese di Messina Denaro che a quello della restante parte della provincia di Agrigento. Lo sostiene il magistrato Salvatore Vella in un'interessante intervista rilasciata al giornale di Sicilia. Sentiamo. La mafia agrigentina è legata a quella trapanese, a Matteo Messina Denaro. Lo ha detto durante un'intervista rilasciata al giornale di Sicilia il sostituto procuratore della Repubblica di Trapani, Salvatore Vella, che conosce come pochi altri il fenomeno mafioso dell'agrigentino. Da sostituto della procura di Sciacca applicato alla DDA di Palermo, Vella ha seguito le indagini dalle quali è sforciato il processo scaccomatto sulla mafia nell'area bellicina, saccenze e riberese. In questo territorio c'è un elemento di certezza. Una parte della provincia, con Sciacca, Menfi, Sambuca, Santa Margherita e il Belice in generale, ha un collegamento più con la mafia trapanese, che oggi è Matteo Messina Denaro, che con le restanti famiglie della provincia di Agrigento. Così Salvatore Vella, per il quale c'è un collegamento tra Leo, Sutera, la mafia di Santa Margherita e Sambuca, con Messina Denaro. Un collegamento, dice Vella, che già veniva fuori in passato. C'è anche un pizzino che Matteo Messina Denaro scrive a Bernardo Provenzano e che testimone anche la sua attenzione sul territorio di Sciacca. Vella ha ricordato poi il contesto storico in cui venne ucciso a Curso Emiraglia il sindacalista Saccenze, di cui oggi si commemorano i suottant'anni dalla morte. Già in quel periodo, ha detto Vella, avevamo un contesto di criminalità organizzata molto forte, associata, verticistica, in cui si incrociavano interessi molto importanti, legati anche alla nascita della Repubblica. Lì è nata una determinata gestione di episodi, un sistema al quale a Curso Emiraglia si opponeva. Politica con i giovani di Mizzica può essere avviato un dialogo. La lista del Movimento 5 Stelle è aperta e pronta ad accogliere il loro contributo. La dichiarazione che arriva dal parlamentare Matteo Mangiacavallo all'indomani della conferenza stampa, nel corso della quale il Movimento Politico ha lanciato il suo progetto civico, fatto più di liste al Consiglio Comunale, è un proprio candidato a sindaco. Un'apertura, quella lanciata a Mizzica dal parlamentare regionale dei 5 Stelle, destinata a far discutere anche per i paletti che comunque vengono messi. Il riferimento è alla presentazione delle altre liste, oltre a quello del Movimento Mizzica, che rappresenterebbero il vecchio della politica saccense. Sentiamo Matteo Mangiacavallo. Mizzica ha aperto le danze, giocando d'anticipo rispetto alle altre forze politiche, allo stesso Movimento 5 Stelle, che pure da tempo, con le assemblee itineranti, ha aperto il cantiere dell'elezione amministrativa. Nessun problema per il parlamentare regionale Matteo Mangiacavallo. Noi da novembre 2015, che diciamo che abbiamo avviato un percorso di avvicinamento a queste amministrative, quindi siamo un anno e qualcosa in anticipo rispetto a Mizzica, sicuramente parteciperemo alle prossime competizioni elettorali. Sul fatto che non ci sia un candidato, neanche loro hanno un candidato al sindaco e quindi siamo alla pari in questo momento. Due proposte, quella di Mizzica e dei 5 Stelle, per le quali ancora non è stato sciolto il nodo fondamentale, quello del candidato sindaco. Nei grillini si sono fatti i nomi di Alessandro Mucari e Dorenzo Navarra, ma probabilmente ci sarà l'effetto sorpresa. I nomi che si fanno in giro in questi giorni sono quelli che appartengono al gruppo, diciamo di coloro che hanno partecipato assiduamente a tutti gli incontri, ma non è detto che la scelta sarà fatta all'interno del gruppo, ma si potrà anche andare sicuramente all'esterno. Fin qui il percorso dei 5 Stelle verso le elezioni amministrative. Ma Matteo Mangiacavallo al nostro telegiornale oggi si spinge oltre con una valutazione nei confronti della proposta annunciata da Mizzica e addirittura con un'apertura nei confronti del movimento politico, seppure ponendo determinati paletti. I ragazzi di Mizzica, io provo molta simpatia per questi ragazzi, ho sempre detto, mi piacerebbe che anche, lo dico chiaramente, se loro lasciassero il loro progetto e potessero aggregarsi al progetto del movimento, noi abbiamo una sola lista e se i loro nomi possono essere, se lasciano se si liberano di quelle che sono le idee, i pregiudizi nei confronti del movimento, non possono benissimo partecipare insieme al movimento a questa avventura alle prossime amministrative. Io penso che, no, non li vedo come competitor perché con i ragazzi di Mizzica siamo molto affini, da un punto di vista politico si possono fare anche alleanze programmatiche, visto che noi non possiamo fare alleanze di tipo politico. Quello che mi dispiace è che ieri abbiano annunciato che si presenteranno con più liste e che non avranno soltanto la lista in cui sono loro il nuovo che avanza, ma c'è anche il vecchio al rimorchio. Questa apertura che lei fa nei confronti di ciò che rappresenta il nuovo all'interno di Mizzica potrebbe avere un senso anche al ballottaggio eventuale? Al ballottaggio, ovviamente, se non dovessimo andare noi, è chiaro che noi non sosteremo nessuno. Da un punto di vista dei voti, noi diciamo sempre, e lo ribadiamo, che i voti appartengono alla gente e sono della gente, i cittadini che sceglie il proprio rappresentante. Da questo punto di vista noi non siamo interessati a discussioni di questo tipo, però qualora ci saranno dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle e di Mizzica in Consiglio Comunale sicuramente sono due compagini che possono lavorare bene insieme. Che campagna elettorale sarà alla luce anche delle proposte e delle definizioni che ancora si attendono da parte degli schieramenti tradizionali? Mi riferisco alla coalizione uscente come anche a quella dell'opposizione. La campagna elettorale è anomala perché ancora ad oggi non sappiamo quali siano i candidati, che tipo di schieramenti verranno fuori e che accozzaie presenteranno alla cittadinanza. L'unica chiarezza che noi offriamo alla gente è che noi ci presenteremo con un candidato al sindaco e con una lista del Movimento 5 Stelle senza apparentemente e senza alleanze. Questa è sicuramente l'unica nota chiara che sarà la prossima elezione amministrativa. E a proposito di elezioni, il 2017 è un anno importante. Al voto vanno diversi comuni in Sicilia, ma prima delle amministrative dovrebbero essere eletti anche i vertici dei liberi consorsi e delle città metropolitane. Stiamo parlando delle ex province, i stand-by dal 2013. La data prevista è per febbraio, ma si rischia un pastrocchio perché a maggio si voterà poi per le amministrative e c'è il rischio che i sindaci eletti ai vertici dei liberi consorsi restino in carico solo per tre mesi. Sentiamo. 2017, anno di elezioni. Nelle prossime settimane la Giunta regionale ufficializzerà le date delle amministrative in Sicilia che coinvolgono una quarantina di comuni e che probabilmente si svolgeranno a maggio, con turno di ballottaggio che potrebbe essere fissato ai primi di giugno. Giunta regionale che si trova però a dover decidere anche la data di elezione dei vertici dei liberi consorsi e città metropolitane. Stiamo parlando delle famose ex province rimaste nel limbo dal 2013 a causa di una riforma mai definita. Adesso l'ultima scadenza possibile per porre fine alla gestione commissariale di questi enti è quella di febbraio, dopo che sono state rinviate le elezioni previste per lo scorso autunno. Si tratta però di elezioni particolari che non contemplano la chiamata alle urne dei cittadini ma dei loro rappresentanti nei comuni, ossia sindaci e consiglieri. E tra di loro saranno scelti il presidente di ogni libero consorzio e i consiglieri. Il problema è che rischiano di rimanere in carica soltanto per tre mesi. Tra maggio e giugno si svolgeranno le elezioni amministrative e non è detto che i sindaci e i consiglieri che saranno chiamati a guidare i liberi consorsi siano riconfermati nei rispettivi comuni. Quindi si pone la questione dell'eventuale loro decadenza e la conseguente necessità di tornare dopo poco tempo anche al rinnovo dei vertici dell'ex provincia. A sollevare la questione è stato Leoluco Orlando, presidente dell'Anci Sicilia, ma anche sindaco di Palermo, comune che andrà in primavera alle elezioni amministrative. C'è il rischio, ha detto, di ottenere la decadenza degli organi dei liberi consorsi e città metropolitane, come nel suo caso. Un dubbio condiviso dall'assessore agli enti locali Luisa Lantieri che era già pronta ad annunciare la data delle elezioni dei vertici dell'ex provincia per il prossimo mese di febbraio in virtù di una gestione commissariale che non può essere ulteriormente prorogata. Un ulteriore rinvio, ha comunque dichiarato al giornale di Sicilia, è possibile solo se l'assemblea regionale siciliana approverà una norma in questo senso. Le ex province rimarrebbero in tal caso in ulteriore stand-by e non è finita qui perché comunque in autunno ci saranno anche le elezioni regionali. Del resto sono passati quattro anni dalla famosa dichiarazione del governatore Crocetta che ai media nazionali aveva sbandierato l'abolizione delle province in Sicilia, risaltando anche il primato di essere stata la prima regione a farlo. In realtà abbiamo cambiato solamente denominazione, da provincia a liberi consorsi, le competenze sono rimaste ma sono venuti meno i fondi per dare risposte effettive ai territori. Intanto in attesa che sia fissata la data delle elezioni del Presidente del Consiglio e dei liberi consorsi comunali, l'assessore Lantieri ha modificato in parte il meccanismo del voto ponderato, previsto in via transitoria l'incremento del voto ponderato di ciascun consigliere nei comuni dove si è votato nel 2016. Tale incremento servirà a compensare la diminuzione del 20% del numero dei consiglieri comunali. In provincia di Egrigento sono interessati alla modifica i comuni di Canicattì, Favara, Porto Empedocle e Montevago che sono andati al voto nel 2016 con le nuove norme, leggendo un numero minore di consiglieri comunali rispetto agli altri comuni del territorio della stessa fascia di popolazione. La fase transitoria avrà termine quando all'interno dell'ente di area vasta di appartenenza i comuni della medesima fascia demografica avranno tutti rinnovati i propri organi elettivi. La Regione ha destinato per il 2016 risorse per un milione e mezzo di euro ai liberi consorsi comunali e alle città metropolitane. Le somme previste in due decreti assessoriali della fine di dicembre del 2016 sono state assegnate esclusivamente per coprire la spesa per l'assistenza e il trasporto degli alunni e delle alunne diversamente abili. Per il libero consorzio comunale di Agrigento è stata destinata la somma di 134.450 euro che servirà a coprire solamente una parte delle spese già affrontate nel 2016 con il bilancio dell'ente. Il libero consorzio comunale di Agrigento nel 2016 nonostante i tagli ai trasferimenti e le insufficienti risorse finanziarie ha assicurato a più di 200 famiglie della provincia il servizio relativo all'assistenza cosiddetta specialistica comunemente chiamata di autonomia e comunicazione oltre a quello igienico-sanitario nelle scuole superiori di competenza dell'ente. Inoltre la provincia è riuscita a garantire il trasporto ad oltre 90 alunni della provincia affetti da grave disabilità in maniera continuativa. Castelvetrano è stata deliberata l'approvazione del progetto esecutivo del primo stralcio funzionale dei lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento del depuratore comunale nella frazione di Marinella di Selinunte. L'impegno di spesa sarà di 84.000 euro. I lavori prevedono l'istituto installazione di misuratori di portata e campionatori automatici in ingresso e un'uscita sulla base delle disposizioni stabilite dall'assessorato all'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Sicilia. Distretti produttivi, consorsi, società consortili, piccole e medie imprese e rete di impresa sono questi destinatari dell'avviso pubblico pubblicato sul sito della Regione per la partecipazione a quattro importanti eventi fieristici che si terranno nei prossimi mesi in Europa. Si tratta di OMI per il settore casa in programma a Milano dal 27 al 30 gennaio 2017. E' BOOT che interessa la nautica e si svolgerà a Düsseldorf dal 21 al 29 gennaio prossimi. Biofac relativa al settore food bio che verrà ospitato a Noriberga dal 15 al 18 febbraio. E' tutto food per l'alimentare che si terrà a Milano dall'8 all'11 maggio. Gli interessati che vogliono manifestare il proprio interesse alla partecipazione ai quattro eventi fieristici dovranno inviare la loro istanza all'assessorato regionale alle attività produttive e possono comunque consultare il bando online sul sito della Regione. Scuola, le vacanze stanno per terminare per gli studenti di ciascun ordine e grado che torneranno nuovamente sui banchi di scuola lunedì 9 gennaio. Qualche giorno di vacanza in più quest'anno, prolungato per effetto del ponte dell'Epifania. E sono tanti i ponti che caratterizzano il restante anno scolastico. Previsti giorni di vacanza in più per il 25 aprile e il 1 maggio. E sono già noti i giorni in cui i ragazzi si cimenteranno nelle prove invalsi e negli esami di maturità. Vediamo. Qualche buona notizia non potrà che addolcire rientro in classe agli studenti. Passate le vacanze di Natale, sembra che il tempo passi più velocemente. E nel 2017 in particolare saranno diverse le vacanze in vista per il restante anno scolastico. Dopo il ponte dell'Epifania, che ha permesso ai ragazzi di tornare a scuola non il 7 gennaio come di consueto, ma il 9, saranno diversi i giorni in cui gli studenti potranno dormire qualche ora in più la mattina. Andiamo con ordine. A febbraio c'è carnevale. Di calendario solitamente gli istituti scolastici, padroni della propria autonomia, solitamente sfruttano i giorni della manifestazione per effettuare la disinfestazione, dal lunedì al mercoledì grasso. Ma ancora bisogna capire a sciacca cosa accadrà per il fine settimana antecedente al carnevale, quello del 18 e del 19 febbraio, compresi nell'edizione 2017 della festa saccense. Probabilmente qualcuno deciderà di non andare a scuola sabato 18 o lunedì 20, oppure qualche dirigente scolastico deciderà di tenere direttamente chiuso il proprio istituto per quei giorni. È ancora tutto da decidere. Marzo sarà poi il mese più intenso, senza interruzioni. Pasqua, infatti, quest'anno cadrà ad aprile. Sarà vacanza dal 13 al 18. Il 25 aprile, poi festa della liberazione, sarà un martedì ed è molto probabile che molte scuole il lunedì 24 decideranno di tenere le porte chiuse. Il primo maggio cadrà di lunedì, quindi altro giorno di vacanza. Un altro ponte è previsto anche per il 2 giugno, festa della Repubblica, che quest'anno sarà un venerdì. E questa sarà l'ultima vacanza, come sempre, prima della fine delle elezioni, prevista il 9 giugno. A Sciacca, comunque, si prospetta una fine dell'anno accademico particolarmente breve per le scuole sedi di seggi elettorali. Tra maggio e giugno si terranno infatti le amministrative, altri giorni di vacanza per studenti e col prodocente. Insomma, i giorni di scuola rimasti sono praticamente contati. Dopodiché sarà la volta per i ragazzi della terza media degli esami. Non esiste, in questo caso, una data valida per tutti gli istituti. Eccension fatta per la prova in Valsi, fissata per il 15 giugno. Per i ragazzi delle superiori, invece, la prima prova degli esami di maturità sarà il 21 giugno, la seconda il 22 e la terza, come solitamente accade, dovrebbe tenersi il lunedì successivo, cioè il 26, ma quest'ultima data è ancora da confermare. Solidarietà torna domani sera all'hotel Lipari del complesso alberghiero di Sciacca Mare, la tombola di beneficenza organizzata dall'associazione Crescere Insieme. L'obiettivo è la raccolta fondi a sostegno delle tante attività messe in campo dall'associazione. Oltre 500 premi che saranno distribuiti nel corso dell'unica tombola in programma che sarà animata da Francesca Cirafisi. L'appuntamento è per le 20.30, ne abbiamo parlato con gli organizzatori. Torna la tombola di beneficenza organizzata dall'associazione Crescere Insieme, di cosa si tratta? Si tratta di una raccolta fondi per la nostra associazione, è organizzata dall'associazione Crescere Insieme che, come è nota, è composta soltanto da familiari di disabili. Ma questa volta è una tombola davvero straordinaria rispetto alla prima. Vedrà una partecipazione enorme di persone e soprattutto ricchissima di premi. Siamo ospiti in una sala bellissima, saremo tantissimi, l'adesione c'è stata e per questo soprattutto dobbiamo ringraziare i grandi sponsor, che sono i piccoli sponsor. Tantissime attività di Sciacca ci hanno consentito questo straordinario successo. Sarebbe bello ringraziarli uno ad uno perché lo hanno fatto e lo hanno fatto col cuore. Abbiamo ricevuto anche telefonate di chi voleva proprio donare e questo ci ha riempito di grande commozione, di grande soddisfazione per un lavoro svolto di un'associazione che si è spesa per il territorio e per i nostri ragazzi in maniera disinteressata. Ma li dobbiamo ringraziare anche l'incontenibile entusiasmo dei nostri volontari. Davvero incontenibile, sono tantissimi, sono numerosissimi e l'esperienza è questo grazie ad un leader che è a Corsio Sclafani, che ha creato proprio una squadra e ha diffuso in tutto un entusiasmo contagioso. Emanuele Bellitti, la vostra associazione Crescere Insieme organizza questa tombola di beneficenza. Perché è importante per voi che la gente partecipi? Per noi è molto importante perché fare capire alla gente che fare beneficenza sia una cosa molto utile perché molte volte fare beneficenza significa girarsi all'altra parte. Ma non è così. Se noi ci accogliamo ci sono tante persone che hanno bisogno attraverso anche a 160 gradi perché l'ormodotato non fa distinzione, si guarda attorno a lui stesso e non fa parte. Quindi noi, a Corsio Sclafani, i nostri volontari hanno deciso di fare questa tombola perché questi ragazzi hanno tanto di bisogno. Ecco, voi il pomeriggio c'è un centro dove vi riunite, vi vedete. Cosa fate? Come passate i vostri pomeriggi lì? Passiamo i nostri pomeriggi a fare un laboratorio di teatro, ceramica soprattutto. L'invito? L'invito è che vi diamo a tutti e alle persone, soprattutto ai ragazzi che vengono a questa tombolata. Francesca Cirafisi, ci sarai tu ad animare questa serata di beneficenza. L'invito? L'invito è per tutti. Domani sera 5 gennaio all'hotel Lipari. Quindi venite dotati di penna, mi raccomando, e buona fortuna e buon divertimento, non mancate. I costi di questa tombola, ne abbiamo parlato? I costi molto bassi. Parliamo di 5 euro, 3 cartelle. Con questa cartella si può giocare tutta la sera, quindi non c'è bisogno di comprarne altre se magari non lo si può fare. Quindi si gioca, si vince soprattutto e quindi partecipiamo un po' tutti perché i premi sono molti, sono quasi o più di 500. Quindi ci sono più tombole, più ambi, più terni. Quindi giochiamo e facciamo del bene nello stesso tempo. A proposito di tombole, una tombolata solidale domani sera anche a Santa Margherita Belice per la raccolta fondi a favore dei leoni sicani. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con il gruppo Camminata Margheritese ed altre associazioni del territorio. L'appuntamento è domani sera alle 20, alla Luna nel Pozzo, a Santa Margherita Belice. Musica e solidarietà, gran concerto di Epifania domani alle 21 alla Basilica Maria Santissima del Soccorso di Sciacca, del Coro Polifonico Città di Sciacca, del Coro di Voci Bianche, dell'Ansamble del Centro Studi Schenè sotto la direzione di Ignazio Catanzaro e le orchestrazioni di Accurso Sclafani, direzione artistica di Olga Galluzzo. I giovani proporranno musiche e tradizionali natalizie di diverse nazioni con l'intervento delle voci narranti di Gialleo Licata. L'ingresso è libero, le eventuali offerte saranno devolute in beneficenza. Si svolgerà domani sera alle ore 20 presso la Chiesa Madre di Menfi il concerto di Capodanno. Si esibirà l'orchestra Fiat di Bivona diretta dal maestro Salvatore Cutro e i solisti Ignazio Messina al clarinetto, Michele Campo al pianoforte, Giulia Letto ed Ingole Iuculano al sax. E adesso il libro del giorno. Lei lavora per il governo degli Stati Uniti, per un'agenzia così segreta che non ha neanche un nome. È un'esperta nel suo campo, ma adesso sa qualcosa che non dovrebbe sapere e i suoi ex capi la vogliono morta. Subito, l'unica persona di cui si fidava è stata uccisa. Quando le viene offerta la possibilità di mettersi in salvo in cambio di un ultimo lavoro, lei accetta, ma nel momento in cui si prepara ad affrontare la sfida più dura, si innamora di un uomo. E sarà una passione che può soltanto diminuire le sue possibilità di sopravvivenza. Mentre tutto si complica, la specialista sarà costretta a mettere in pratica il suo talento come mai prima. In un mondo in cui i rapporti di fiducia mutano di continuo, dovrà muoversi con ingegno e astuzia per proteggere se stessa e l'uomo che ama. Anche oggi grazie per essere stati con noi. Rinnoviamo l'appuntamento alle prossime edizioni. Grazie per la visione! Grazie per la visione!